oh qui c'è un passario terrone che vende ma è un occupante abusivo buonasera buongiorno salve è qui che si vendono carte fatte di magic magari c'è una cosa un po' schiadevole ma lei che la smentisse attaccato buon ciao agliù siamo con il sorriso dalla vasta povetteria di fiducia a tradi continuiamo il nuovo concorso e in più abbiamo inserito un nuovo concorso un nuovo evento in occasione dei 5 anni dell'anniversario però dato che cade mercoledì proprio il giorno dei nuovi arrivi forse anche il giorno dell'anniversario ci sarà il più grande primo aprile aspettate però il 25 maggio sarei posto primo aprile faremo video a tutto detto questo il 29 accorrete cioè ad iscrivervi perché i posti sono limitati per 10 persone o coppie perciò potete andare diamo la priorità alle coppie per far partecipare più gente e dare la possibilità di vincere è un evento in teoria gratuito in pratica no perché si deve portare per essere scritti un qualcosa da mangiare o da bere del valore simbolico di 5 euro non c'è bisogno di portare lo sconfino no no ci mancherebbe no ci mancherebbe una cosa perché poi almeno il gesto si 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 al massimo poi se li facciamo i miei gatti al massimo tutte le restate al gatto torna eh ho visto cosa sembra eh ma è vero eh eh detto questo vabbè vabbè tanti eventi tante promozioni guarda che riesco con le altre sabato si domenica sabato sabato ci danno le altre avete ricapito era partito da domenica sì l'avete ricapito era partito da domenica sì l'avete fatto pure nella settimana si 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 iniziamo a spoilerare dato che non possiamo fare proprio così perché se no ci perdono i soldi in stampa ovviamente quelli occupati non sono ancora qui giusto si oscurati non è che non si leggono non si deve indovinare no non è un quiz ok pure qua nel quiz è che va è tutto un quiz va allora qua abbiamo un gioco uno dei giochi più belli del monte a trani allora non è magic abbiamo capito forza dimensionale vai bo 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 la nuova espansione forza dimensionale che conterrà il primo il primo in assoluto nostro pendulum rituale e noi vi facciamo vedere i premat che metteremo su winter ci troverete con l'account vabbè ovviamente posso scegli tutti ma un sacco si vabbè abbiamo in box di forza dimensionale con il fly mat bello prima del bello bello non si capisce niente vabbè dentro sta ovviamente la locandina sta sembra la locandina si dentro lo tappetino si si quella ce l'ho io una poi io ce l'ho una invece quella di Bach quando vi siete quando vi siete tappetino di Bach quello di Bach pure ce l'ho spettacolare bello eh si si però se vogliamo dire c'è uno più bello scusate vabbè è bello ma non esageriamo no poi è bello è spettacolare vabbè e comunque questa domenica abbiamo ricordiamo abbiamo Tifo lo spettacolo continua domenica che giorno è domenica? 15 eh si l'uscita di Tifo o 14 sarà il prelise con le novelle su sorella vabbè ci sono tanti sì 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 qualche individuo del magazzino sicuramente ha messo il pop sotto il box si è scherzo in taglia in taglia 1 ho tutte con le mani non le le utilizzate per materie di box buono lo so buono lo so un altro di tomura shigakara si un altro shigaragi si roi mustang bellissimo finalmente spettacolo personaggio roi mustang due roi e poi ah scarlet ma una grande richiesta si scusate scarlett lo si inversione ah invece di arciosi di elena di ok 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 o mi è ecco qua ok a chi mi fai ok poi ok poi è una testa non è una testa ma non è un altro o metti or padre ok o tifo no gamora e non è una battuta di amor ma tu che ti avevi presi però no metto a mano i primi no poi trago marco draco draco con le bustine di ciali ma sono permessi di stanza e poi anzi due a grande ritorno se non è per finire gadget vai i gift pack di se l'album è l'internamento arriviamo subito arriviamo subito cometti partiamo con naruto lo bellissimo in occasione del suo 25 sì perché sì sì 98 voglio parli in giappone o che vici qual era la città che c'era la bianca con la copertina a bianca con la copertina a bianca con uno non lo faccio non lo voglio tre anni non lo so se direi che è un po' di monsley però mi sa che c'è una cosa del genere no 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 può essere con l'unico preview si le preview bonelli e io vado direttamente con il catto bomba la notte del cavalliero scuro gioc scritto e disegnato da gioco quindi 24 8 ok in occasione di qualche anno spiderman marvel action oh spiderman e poi e poi e poi e poi e poi ritorno l'alta repubblica avventure l'alta repubblica avventure e respawn torre l'hanno fatto re re di spade pure a pure a spade si autoconelavato re more night oh sole di mezzanatta si è tutto soccorato star wars l'altra repubblica avventure non lo so non lo so mission a bimbo al bimbo walking dead per l'amico marco per l'amico marco terra 1 per poter lo fia state e per la nuova o ranno di batto più che di batto con di tutta di sei costi altri respawn penny world penny world moon night moon night la missione della mezzanotte della mezzanotte no è diverso di qual notte questa è la mezzanotte ah quella è il sole spettacolo spettacolo ma cosa marco tu dici eh non mi piace no c'è questo favore spettacolo marco da per favore io per questa cello oppure però non questa qua cioè lo stesso disegno ma non con questo spettacolo no 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 bellissimo 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 uno di quattro qual'è la versione uno di quattro otto euro ma ne vale tutti il fumetto è Davis Reign eh il fumetto è Davis Reign eh il fumetto è Davis Reign 4x3 questo doppio batman 47 batman 47 47 47 ancora 47 amici spider ormai 85 allora bell'amica giorgia giorgia tutto tuo vai angolo 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 cupid shock un coppa letto credo autoconclusivo di 13 euro con un cese una cartolina poi il cese proprio lui è deciso ancora poi a roff se le varia l'angolo giorgia questo vabbè questo da Davis Reigns così continuo a mettere i saliti comunissimi vai con l'angolo tu tante coppie di Devil Reigns poi abbiamo tutto Killing Stalking la prima stagione i primi quattro volumi poi vabbè il mostro di Giungito questo non è giorgia troppo e non basta finito con Giungito obbligo di Giungito benissimo il 2 di e il bonge e il bonge il 2 benissimo questo due di due fighissime le due comartine si può pure unire spettacolo una bella serie completa 12 euro con 2 ceppitelli ho visto la cosa per te ceppitelli però questo è quello che chiamo alla fine ceppi segui tutto il video perché ho una cosa per te una cosa per te alla fine anche per no ceppi non è ceppi non è ceppi avrò qualcos'altro queste volte non seguire il video chiudi ti strike chiudi ferra ti francesco parli guardati tutto il video anzi dopo te lo scrivo anche eh questo video perché è dedicato a te no c'è una cosa per te io l'ho presa per te poi tu mi dirai allora è l'unico 17 di Giorgio Onium è chiuso perché è l'ultimo di Giorgio Onium creato dalla Star Comics in questo mondo e ci sono benissimi di segnalibri bravissimo 10 esclusivi segnalibri per rivivere la saga grazie ai suoi indimenticabili protagonisti altri Giorgio Onium altri Giorgio Onium 3.000 ho voci di Giungito poi altri Kling Stalking tutta la seconda stagione penso circa Tokyo Ghoul Zaki Re di un cartonato fighissimo si guarda già contattito americheno tutte le immagini ah no è tagliato in italiano è in spettacolo quando sta per i nostri amici in ascolto 25 euro volume unico 25 per le amici quali che non sono amici 30 euro poi il Trun di South Wars questo no ah il Marvelverse di Moon Knight 9,90 euro poi un po' di stamp così sono leveling chi non riascita hai riuscito a mettere erano molti in palo con Suba questa è una novità questa è una novità è un'altra bella novità insieme al romanzo abbiamo South Wars numero 1 di Leia Leia si e poi l'integrale X-men integrale allora io vado a dire l'artelica di Arretretti Arretretti a cui Orimia li abbiamo presi tutti quindi ci sono tutti usciranno avanti e indietro con il video Kakegurui Anakokun e Anakokun numero 1 sempre noi vediamo una novità aspetta una novità un saluto dopo qualche One Piece Anakokun perché sono pochi eravamo tutte novità che riguarda un sacco di novità ah il nostro futuro il nostro futuro e iarici beach club 3 2 yes altri Naruto si o One Piece Anakokun 68 yes ed è una sveglia 18 prima il 12 ma il 18 è uscito l'Emilia e io poi ciò avrei soltanto novità 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 da buttare non si può male allora io caccio un po' di novità comitent numero 18 j-pop sempre nella j-pop abbiamo non tormentarmi Nagatomo altri arretrati invece oh tutto El Paradise El Paradise El Paradise One il Sanger Rock per l'amico Davide yes oh dove stai? Super X Heroes numero 12 per l'amico Maurizio Dorado scopa yes ma non farei 2 2 2 per l'amico 3 si beyond clouds 4 novità si dragon made numero 6 novità eh la bomba is war si numero 13 novità che del 2 poi poi con la tua scatola si ah ok arretrati arretreti arretreti di anacocan 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 demoslayer 12 e il 19 il 19 novità novità e come novità dashi no ko numero 2 novità novità naruto arretrati demon slayer arretrati no si 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 è andato bene one piece arretrati naruto arretrati si di arretrati vai vai io faccio un po' di spazio qui sangri la 2 si è versione normale che è frontier che è versione col bucletto con la variante è bello si unica sbagli manca veramente figo su spieghiamo gli da giochi a rietretto want peace one piece bianco verde rangione viola tutto quello che non c'è vuol dire che è che è essere andate dai fornitori e riproduttore altri singh ensea interessantissimo potentissimo ma questo è la novità pure che novità 2022 2022 si è la versione silver e se invece alla scritta silver di vedere altri scala un pietro un pietro 1 altri arretrati tra cui del di conan lega nuovo 6 e cioè numero 7 e ci finisce altri arretrati tanti tiranuti iniziano mairo 23 lei la allora c'è grilla e 2 se c'è noto lo visual 4 e lo visuale ragazzi mi dispiace perché pensato di aver finito c'è in cannes è ganze 1 che sono i nuovi demo slayer si è io quello mi spettavo il tuo cartone con con il mio fumetto migliori di tanti altri no non penso sono numero 8 ma ero met il sacchetto di minatsuki numero 8 abbiamo tutti gli arretrati il negozio disponibile fichissimo si apriamo a dei gatti sia se leggete questo poi vi comprate un gatto questo è la bomba per l'arico la bomba per l'amico fella per l'amico francesco con noi puoi togliere il ragazzo dal ghetto ma non ma non il ghetto dal ragazzo chi l'ha detta il dio il dio il più forte essere umano al mondo dopo seconda loro vi ho fatto il più grande melcio washington no cattivo europa del sapore portato ecco giro che è tutto il manto gilare pc il suo reggito al più forte giocatore il dio cd slatarno isola moto a è quasi gm e tu cucina no non è venuta la frase è proprio lui si si parla del fatto del dei mobili di l'ikia qua suo nella vita e questo è sicuro se non vi è si si no non pensavo si parlasse di casa è proprio per terra arrego tu non sei fatta cazzo no io ho la frase ma ricorda come venire per attraverso il taglio se il termino però io voglio giocare più dell'interno una non si trattava sono poi un problema e niente da il grande giocatore zlatano più che il calciatore oltre fatti comunque no zlatan fortissimo fifa pesce no ma poi in realtà è un'altra città gol spettacolare e niente niente l'avvento quando vi dà un sacco e cinque devo se ne chiede, bella ho io